si prova di testa ma è impossibile arrivarci da lì attenzione attenzione perché posso già no ancora no 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 non è possibile no 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 dai 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 stacca stacca c'è veramente stacca stacca dai andiamo in attacco vediamo se riesco a saltarlo facilissimo ci prova ancora questa volta e gol 1 a 0 è un amichevole però finalmente mi sono sbloccato andiamo a recuperare palla di nuovo vai vediamo se riesco a sapere in mezzo a tutti incredibile incredibile io ci prova da qui è deviata deviata l'ho tirata addosso praticamente attenzione all'ucraina calcio d'angolo facciamo via non sono un difensore perché però vabbè troppo avanti sono passate la palla adesso sì adesso sì per accentrarmi ma mi blocca vediamo se riesco a a tirare me la parà ancora ho fatto quel gol per miracolo l'ho fatto ci provo 2 a 0 partita finita finisce qua 2 a 0 questa amichevole vinta da noi o da me altra amichevole contro l'olanta entriamo di nuovo al 78esimo vediamo se riusciamo a fare di nuovo gol io c'ero davanti ero libero perché non me l'ha passata ci provo e me la para madonna dai però attenzione all'olanta attenzione all'olanta perché a campo aperto si fanno saltare si fanno saltare si questa è mia questa è mia questa è mia ci provo che gol bellissimo questo ho fatto un fallo quasi nullo dai c'è poteva anche evitare lo sapevo io cazzo non ha spazzato perché vabbè vabbè dai vai così bellissima possibilità per la ripartenza guardami al centro che ci sono provo rette finita finita bellissima azione attenzione all'olanta che può riaprire anche se a questo punto riaprire mi sembra un parolone bellissimi passaggi di prima tutto di prima tutto in velocità vai così vai così ripetiamo l'azione eh centrale vai così vai così bellissimo bellissimo un altro dai che ne facciamo un altro dai che non ha tirato non ha tirato vabbè due a zero questa è la cosa importante dai ma perché ma perché lasciano molto a desiderare le mie prestazioni ma hai visto come gioco porco demonio contro il feynord siamo vai così vai così vai così ci provo è da quella distanza quasi impossibile segnare a meno che proprio il portiere non abbia i prosciutti negli occhi attenzione perché rimpallo fortunato ci provo che gol che volco fatto mamma mia mamma mia che potenza raga ve la sognate questa potenza solo con me la potete vedere vediamo che cosa posso fare lo salto lo salto ci provo di nuovo rette subito subitissimo è successo di tutto l'importante che la palla ce l'abbia io vediamo se riesco a saltarlo ti ho visto provaci se la può parare però vabbè dai ci posso provare attenzione perché ancora nostra è ancora nostra è ancora nostra che cazzo allora vabbè ci posso provare non ci arrivo non ci arrivo attenzione perché ancora è nostra ancora è nostra ci provo niente da fare niente da fare attenzione attenzione feynord attenzione feynord non mi piace questa cosa qua non mi piace la metto in mezzo per fortuna la difesa c'è però ancora loro ancora loro grande difesa vediamo ho qualche problemino con i dribbling port oh attenzione ci sono riuscito non c'è nessuno in mezzo a chi vuoi che la passi la palla attenzione a feynord che prova ad attaccare in tutti i modi per fortuna la nostra difesa c'è finisce questo primo tempo 0 2 per noi recuperiamo subito la palla possiamo già provare ad attaccare almeno ci possiamo provare ad attaccare almeno possiamo provare ad attaccare vediamo che cosa riesco a fare da questa posizione impossibile fare qualcosa vai che ci sono io ci provo il portiere la para eh vabbè per fortuna la difesa funziona qui ma vabbè mi rimangio tutto dai palla nostra adesso sì che dobbiamo provare ad attaccare però se fai l'1-2 ok però se fai così mi fai perdere tempo non riesco ad attaccare prendila la palla però c'è passamela vediamo se riesco a saltarlo ci riesco benissimo così benissimo così benissimo così ti ho visto tira madonna ci potevo provare di testa ma non ci sono arrivato attenzio dai 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 lasciamo stare proprio dai ogni volta che passo la palla allora me ne petto guarda caso pensavo fosse calcio d'ancolo per fortuna almeno ci possiamo salvare in qualche modo vediamo questa volta è nostra io non capisco queste cose che fanno proprio non riesco proprio a capire due cose senza senso dobbiamo prendere gol forza se no non ci sto contento era pure side vediamo se riesco a saltarlo è qui io ti ho visto lasciamo stare non gli passerò mai più la palla questa è una cosa sicura finisce qua la partita 0-2 0-2 marsiglia ajax partita di europa league siamo in trasferta e qui dobbiamo vincere anche per scavalcardi in classifica pallo non riesco a capire questo cross enorme che ha fatto ecco le scelte di marsiglia per questo non ha senso siamo in una partita di europa vediamo se possiamo fare schifo come sempre non lo so proviamo ad attaccare vediamo se riusciamo a fare un'azione fatta bene magari io sono al centro e non ci arriva nessuno ovviamente troppo chiusi sono questi qua sono troppo chiusi ci serve più spazio e ci serve tutta la collaborazione di tutti i nostri compagni vediamo qua se riesco a saltarli vediamo se riesco a saltarne un altro ci provo come sempre riesco a fare l'impossibile per poter vincere sblocco l'ennesima partita vediamo se la squadra almeno si mette forza e si mette a lavorare come faccio io dai ho fiducia in questa squadra e l'ha passata un po' troppo presto però non riesco a saltare allora si fanno vedere però si fanno vedere questa è una cosa molto positiva ci prova e se la fa parare i tiri non ci siamo sui tiri non ci siamo vediamo se riesco ad andare di testa no però palla ancora nostra cosa fa no no così non si va avanti però eh non si va avanti così e vanno indietro e vanno indietro ma vediamo se c'è qualcuno in mezzo non ha senso tutto ciò non ha senso non posso giocare da solo io ogni volta per fare un cazzo tipolo bellissimo questo mi è piaciuto questo mi è piaciuto però però troppo 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 lungo se era leggermente più corto magari ci arrivavo prima però vabbè dai queste cose possono passare finisce il primo tempo 1-0 per noi che è un ottimo risultato almeno ci qualifichiamo per certo un ottimo risultato Grazie.